verrà un tempo verrà un tempo di vento e di parole in cui guardare gli occhi della gente sarà come trovarsi in altri porti vedrà ognuno il suo angelo custode e sarà come un compagno di cella visto fuori rincontrato nel sole romualdo perché dici sarà come un compagno di cella visto fuori incontrato nel sole perché il nostro angelo custode o spirito guida ha spesso abbandonato definitivamente il piano fisico e adesso rispetto a noi vive nel sole grazie